Suonare in maniera jazzistica, ma partendo da una forma quasi classica, una sorta di duo cameristico, quasi a metà tra la musica classica contemporanea e il jazz. Io sono marchigiano, sono tanti anni che vivo fuori dalle Marche. Per me questo disco è stato anche un po' un ritorno alle Marche, perché appunto ho conosciuto Daniele, che viene dalla stessa regione mia. Il disco l'abbiamo registrato nelle Marche. Tra l'altro nel disco c'è anche un brano che ho scritto pensando al paesaggio bellissimo delle Marche, in un brano esibito da Colline, che così è. Quando è nato, diciamo, è stato ispirato da questo paesaggio che comunque mi appartiene e che fa parte di me in qualche modo. A presto. 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 A presto.